Buon pomeriggio dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 in direzione Bologna ci sono code a tratti per traffico intenso tra Incisa Reggello e Firenze Sud, vietato il transito ai mezzi pesanti tra Barberino e Aglio. Sulla FIPILI per lavori in direzione Firenze un chilometro di coda tra Empoli Est e Montelupo Fiorentino. In direzione Mare rallentamenti tra Ginestra Fiorentina e Montelupo. Chiuso lo svincolo di Montelupo in entrata in entrambe le direzioni e in uscita in direzione Mare. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sulla Statale 64 Porrettana all'altezza della Galleria del Signorino restringimento di carreggiata e senso unico alternato. Muoversi Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio!